Un'ultima cosa, sull'enorme anticontaggio è prevista anche un'ordinanza per cercare di decongestionare Decumani e Centro Storico. Ci scrivono anche delle associazioni che vorrebbero recuperare quel progetto di mettere l'arte presepiale sotto i porticati di Piazza del Plebiscito. Forse non c'è tempo però per l'otto di sé. No, quest'anno non c'è tempo però siamo anche insieme al prefetto, proprio la settimana scorsa ne abbiamo parlato e stiamo cercando di agire per cercare in tempi rapidi di cominciare a recuperare gli spazi sotto il porticato di Piazza del Plebiscito. Il progetto che era partito poi si è arenato, è tutto fermo proprio in queste ore, insieme alla prefettura l'assessore è lieto, sta lavorando per vedere se riusciamo a sbloccare qualcosa in tempi rapidi. Giovedì l'ordinanza comunque si diceva. Sei giovedì.